4 morti al giorno, è la normalità! Tornano in piazza le studentesse e gli studenti di Napoli per il primo appuntamento dei Fridays for Future, le manifestazioni del venerdì nate su ispirazione della giovane attivista svedese Greta Thunberg. In questo autunno sorprendentemente caldo erano quasi un migliaio le persone in strada. Cartelloni e cori sono ancora le armi predilette del Movimento per l'Ambiente, che ha marciato da piazza Garibaldi fino a piazza Municipio al ritmo di musica e inni alla giustizia ambientale. Due minuti di sosta sotto la sede di Fratelli d'Italia, lungo corso Umberto I, sono bastati ai presenti per dirne velocemente due al governo. Quindi uno sciamare senza sosta, lento e inesorabile fin sotto Palazzo San Giacomo, dove il corteo si è sciolto dopo aver diretto per almeno mezz'ora le casse degli impianti audio verso il comune. In Curiositi, molti turisti si sono intrattenuti assieme ai giovani del Movimento, chiedendo spiegazioni e in certi casi approvando il loro scioperare in piazza. Siamo in piazza come Ecologia Politica Network perché sentiamo l'esigenza di trovare una risposta radicale a quella che è l'emergenza climatica. Ovviamente, oltre all'impegno delle persone, sosteniamo che sia necessario una manovra di governo che vada realmente a far pagare la crisi climatica ai padroni, alle aziende, alle multinazionali che stanno sfruttando i territori, che sfruttano i lavoratori. E se non partirà da questo, non ci sarà nessuna riconversione climatica. È inutile il greenwashing di aziende come Eni, che vengono alla Federico II a fare iniziative sulle ecosistribilità quando sappiamo che Eni è l'industria che si arricchisce, sfruttando i territori, sfruttando l'ambiente. Il corteo per le strade di Napoli era stato anticipato due giorni fa proprio da un blitz dei militanti del Movimento per l'Ambiente al Museo Darwin Dorn, dove Eni era stata invitata all'apertura della seconda edizione del Pianeta Mare Film Festival. Crediti d'imposta per oltre 17 milioni e mezzo di euro, anche per la demolizione di un immobile inesistente ma per il quale era stata presentata un'amendace attestazione di rischio sismico. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura casertana di Santa Maria Capuavetere. Durante le indagini finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare hanno passato al setaccio la documentazione presentata da imprenditori edili, professionisti e tecnici per avvalersi del credito d'imposta relativamente ai cosiddetti sisma bonus per demolizione e ristrutturazione e super bonus al 110%. Le fiamme gialle hanno così scoperto le truffe, tra cui anche un credito d'imposta relativo alla ristrutturazione di un complesso residenziale mai realizzato, peraltro progettato per sorgere su un'area indisponibile in quanto già sequestrata. Nella truffa sono risultate coinvolte una società e una cooperativa di comodo. La misura cautelare si è resa necessaria per evitare l'ulteriore circolazione e utilizzo illecito dei crediti presenti nei cassetti fiscali. Grande successo nel Salone d'Ercole di Palazzo Reale per l'incontro tra ex studenti delle scuole superiori di Napoli e l'ITS Casa Campania, la fondazione che promuove corsi gratuiti a giovani diplomati tra i 18 e i 35 anni. L'incontro organizzato dall'AMPAL e dalla Regione Campania nel contesto del Campania Libri Festival ha visto il presidente della fondazione, Raffaele Archivolti, presentare alle centinaia di studentesse e studenti l'offerta formativa dell'istituto. Ecco a cosa mirano i corsi dell'ITS Casa Campania. Noi vogliamo formare degli studenti che possono inserirsi nella filiera dell'edilizia, già operativi, già con tutte le competenze, già in grado di fare la differenza. All'incontro, in sala con i vari relatori, anche alcuni ex studenti dei corsi offerti dalla fondazione che hanno raccontato le proprie esperienze agli auditori in platea. La prospettiva per i futuri studenti, insomma, è promettente, come racconta anche il direttore dell'ITS Casa Campania, Diego Vivarelli. In questo momento l'edilizia è in forte sviluppo. Abbiamo un placement già in periodi di crisi dell'87%. Chi si iscrive alla ragionevole certezza, dopo il corso e dopo lo stage, di essere assunti. Ragazzi, è un'opportunità. Il settore è quello che più vi dà possibilità, anche per il futuro, avendo la possibilità di cambiare anche ruolo. Aziende private, aziende pubbliche, enti pubblici, i comuni, le stazioni appaltanti, gli studi professionali. Il punto centrale è la vostra volontà. Ci vorranno due mesi per elaborare il piano di evacuazione e di verifica del rischio sismico. Previsti 52,2 milioni di risorse, non subito disponibili. Una struttura di supporto specificamente dedicata e centralizzata presso il Dipartimento della Protezione Civile è un coordinamento strettissimo con Prefettura, Regione Campania, città metropolitane e comuni interessati che potranno avvalersi anche della professionalità e delle tecnologie del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia, Basilicata e degli ordini professionali per le figure ad elevato skill operativo. Queste sono le linee del decreto Campi-Flegrei, approvato in Consiglio dei Ministri. Oltre ai dubbi per i fondi stanziati, si discute sui tempi di realizzazione. Se i piani di monitoraggio della vulnerabilità sismica e pianificazione speditiva sono stati quantificati in 60 giorni, entro un mese va attivata la struttura di supporto al Dipartimento Protezione Civile, 10 unità di personale e dotazione iniziale di un milione di euro. La Regione Campania dovrà invece, entro 45 giorni, elaborare un piano di comunicazione alla popolazione anche con il coinvolgimento della comunità scolastica e delle locali sezioni di volontariato, il sostegno finanziario del governo e di un altro milione di euro. Infine, la redazione del piano dei fabbisogni, infrastrutture, trasporti, vie di fuga, allestimento di aree di smistamento e permanenza temporanea, compito questo assegnato alla città metropolitana, che avrà un mese di tempo per elaborare il tutto e 200 mila euro di contributo dal governo. Sempre alla città metropolitana, entro un mese, spetterà l'organizzazione e il coordinamento dei servizi di protezione civile assieme ai comuni. Qui il governo assegna 50 mila euro alla Regione e 4 milioni direttamente ai comuni.